Sono stati avviati i nuovi interventi a cura di Gori per il risanamento della rete idrica nell'intero territorio comunale di Marigliano. Potenziare il servizio offerto ai cittadini, contrastare la dispersione idrica e contribuire alla tutela di una risorsa essenziale per la vita sono gli obiettivi su cui Gori, Ente Idrico Campano e Regione Campania sono al lavoro attraverso la realizzazione dei numerosi interventi compresi nel macro progetto Azioni per l'acqua. Gli interventi REACT-EU previsti nel comune di Marigliano si compongono di interventi di sostituzione di condotta, sono previsti la sostituzione di 6 km di rete idrica e di interventi puntuali volti all'ottimizzazione della rete e dei distretti attualmente presenti con la creazione di nuovi distretti. Questi interventi permetteranno di recuperare 5,5 milioni di litri di acqua al giorno che sono pari a due piscine olimpioniche recuperate. Interventi non importanti, importantissimi per migliorare la qualità della vita dei cittadini di Marigliano. Innanzitutto si viene incontro a quella che è una crisi mondiale, che è la crisi idrica, quindi salvaguardare l'acqua è un obiettivo importantissimo. A questo si aggiunge la qualità della rete idrica e quindi il miglioramento anche della circolazione stradale al valle degli interventi che si saranno realizzati. Il miglioramento dell'acqua è una linea strategica fondamentale per il nostro distretto che ci permetterà di ridurre del 50% le perdite idrica sul nostro territorio e ci permetterà di farlo senza mettere le mani nei taschi dei cittadini, quindi senza aumentare la tariffa, ma competendo, come abbiamo già fatto, e vincendo dei bandi nazionali ed europei. Siamo riusciti a raccogliere risorse fondamentali sui fondi europei, i due bandi, uno si chiama Reacte, un altro a valere sui fondi PNRR, che ci permetteranno di fare una rivoluzione positiva sui nostri direttori e che ci permetterà di fare tante inaugurazioni come quelle di oggi.